Sono stati costretti a rinunciare agli europei prima e alle Olimpia di dopo e ora con l'arrivo dell'inverno rischiano di non poter vedere i loro programmi preferiti. Gli abitanti di Minervino Morge, comune della Bat, dal 24 maggio, giorno dell'avvento dello switch-off in Puglia e quindi del passaggio dall'analogico al digitale terrestre, non riescono più a sintonizzare i canali RAI. Un si tratta di un servizio pubblico per il quale hanno pagato anche un canone e così hanno deciso di scendere in campo attraverso una petizione popolare. Abbiamo cominciato all'inizio di questo mese, lo raccoglieremo ancora per una settimana, ad oggi abbiamo raccolto credo oltre 1.500 firme, quindi già un 20% della popolazione che sono recati in comune per firmare e poi questa la invieriamo alla RAI. Questo perché? Perché daremo quindi tempo per 90 giorni alla RAI per risolvere i problemi. Qualora questo non avvenga abbiamo già contattato gli avvocati per vedere se ci sono azioni legali possibili per far fronte a questa spiacevole situazione. Come si può votare? Lei ha detto si viene in comune, ci sono dei giorni, degli orari? Allora, tutti i giorni bisogna portare il documento di riconoscimento, sono gli orari di apertura al pubblico del comune, quindi tutte le mattine, più il martedì, il giovedì e pomeriggio. Basta recarsi presso la segreteria comunale con i moduli preparati già predisposti, col documento di riconoscimento si può porre la propria firma.